Bro, 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 Bro it up Start twerking like Miley Oh yeah Twerking like Miley Don't pop it like Miley Balla a tutti ragazzi e benvenuti oggi in un nuovo video Non è la carriera come al solito Ma bensì La Road Division 1 in stagioni Oggi siamo con il Bologna Ho vinto già 3 partite Ehm Mi mancano pochi punti per vincere Il titolo Perchè mi sa che sono già passato Perchè questo è un altro account Non è il mio account Qui siamo ancora in divisione 10 Quindi andiamo a farci la prima partita di oggi Eccoci qui ragazzi Bologna a lì Iniziamo Si può riprendere ragazzi Ho tolto anche la telecronaca Juniga Per adesso in profondità Ed è 1 a 0 ragazzi 1 a 0 di Giaccherini Vediamolo Adesso se la porto sul fondo Poi mette in mezzo Giaccherini non deve fare altro che spingerla dentro Ed è 1 a 0 Bologna Vediamo palla con Don Sa Taider Destro Per Giaccherini Fa scorre Giaccherini Tiro a giro Poi ci proviamo in air Per il gioco Palla Pallo Stiamo con Giaccherini da qui No ragazzi C'è uno schifo Prova Taider Madonna mia ragazzi Non lo faccio tirare più a Taider Se il tiro di nuovo così Ecco servito destro Prova mettere in mezzo Per Giaccherini Cosa si è mangiato il Giaccherini Fuggire però c'è Don Sa Destro Ancora per Giaccherini E stavolta la metto Dai ragazzi 2 a 0 Buona così Scambio 1 a 2 La mette Emanuele Giaccherini 2 a 0 Giaccherini lo schema Emanuele Giaccherini Emanuele Giaccherini Tripletta per lui Rivediamo lo schemone E il destro Cisce sotto il 7 Si salva in qualche modo Non sa Cisce a quel primo tempo 3 a 0 Si riprende Questa è la seconda parte di gara Prova a portare il pallone a Zunica Zunica Ha visto addirittura Teider 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 Per Emanuele Giaccherini Giaccherini 4 a 0 4 a 0 E vediamo il passato di Teider La difesa Voleva Mettere in fuori gioco La squadra a Bologna Però si è pensato Zunica Fare un ottimo passaggio Teider Teider Vuole il fondo Teider Prova a mettere un cross Dall'altra parte E ha visto Mounier Stop Tiro Addirittura ragazzi 5 a 0 Manita Vediamo lo splendido cross Stop E tiro Di Mounier Attenzione Forse c'è il quit In diretta Ed è così Ed è così ragazzi Ci vediamo direttamente Nei menu Qui possiamo vedere Che siamo campioni E titolo della divisione 10 vinto Eccoci qui Di ritorno ragazzi Dalla partita Precedente Abbiamo vinto Per netta superiorità Forse la rosa Non era nemmeno Così Potente Rispetto all'altra Però Il gioco Ha fatto la differenza E si è visto Ragazzi Se questo episodio Mini episodio Vi è piaciuto Io spero che Vorrete vedere Altri video Di questo genere Per arrivare In divisione 1 Mi raccomando Lasciate bei pollicioni In su Se vi va Iscrivetevi Noi ci vediamo domani Da Ciuchino Gamer È tutto Bella